Diaghida è terzo posto in classifica, avete rimesso le cose a posto nel giro di due partite, insomma ora i tifosi possono sognare. Sì, è vero che adesso abbiamo ripreso a fare vittorie a casa e pure a fuori casa. Noi dobbiamo continuare così, non dobbiamo guardare ancora la classifica perché è ancora presto e dobbiamo ancora lavorare perché già da adesso pensiamo già alla partita di sabato. In casa non avete fatto benissimo nelle ultime partite, questa vittoria nell'ultima gara con la Reggiana vi ha riappacificato anche con i tifosi? Sì, perché è vero che a casa non è che facciamo i stessi risultati fuori casa, adesso che abbiamo fatto la vittoria sabato contro la Reggiana dobbiamo essere pure bravi a casa e a fuori casa pure, tutte e due. Cambiato qualcosa anche in difesa, il Teramo ora prende meno gol. Certo, è vero perché già abbiamo, sono due partite che abbiamo cambiato modulo, giochiamo con cinque difensori e la cosa importante per noi che siamo difensori è non prendere gol che per noi è una cosa molto importante. Sabato ci sarà questa gara col tutto cuoio, squadra che conoscete bene e che avete affrontato anche lo scorso anno. Io lo scorso anno non c'ero, allora non conosco il tutto cuoio, però abbiamo visto che loro hanno una buona squadra, dobbiamo preparare bene questa partita e andare a fare i punti fuori casa.